Saranno le misure di questo che questo governo prenderà? Intanto è bene che ci sia un governo perché ne ha bisogno il nostro Paese. Abbiamo chiesto discontinuità. A me oggi non interessa il Totonomi. Mi interessa se il PD e il governo nelle prossime ore aprono o non aprono un tavolo con gli insegnanti e gli studenti per un'inversione netta, vera, di tendenza sulle questioni che riguardano la scuola. A me interessa, per esempio, se si pone fine a questa vicenda dei voucher che è scandalosa e che ha prodotto una precarietà senza precedenti. Allora il Totonomi sinceramente mi interessa poco, ho rispetto per il lavoro che in queste ore sta facendo Gentiloni e anche il Presidente della Repubblica. Quel che chiediamo è un'inversione su grandi questioni di fondo. Il voto del 4 dà un segnale fortissimo e cioè che c'è bisogno di cambiare. Se di fronte al voto del 4 noi non cambiamo nulla, dimostriamo di non aver appreso la lezione e se non si apprende la lezione ci prepariamo ad altre e ancora più dure sconfitte.